È un'emozione indescrivibile, io che sono cresciuto dentro questa società, il mister mi ha chiamato e mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per questo. Ti abbiamo visto prima di entrare a parlare con il mister, c'è stato un abbraccio e poi ti ha regalato anche il pallone a fine partita. Sì, sì, ma il mister mi ha chiamato e io mi sono fatto trovare pronto senza timore, senza ansia e ci abbiamo scherzato su prima di entrare e sì, alla fine della partita mi ha regalato un pallone per l'esordio. Quanto è bello lavorare e quanto aiuta per un ragazzo giovane come te insieme tutti i giorni quotidianamente al fianco di Giuseppe Morini? Il mister è un grande allenatore da sempre e è un privilegio allenarmi con lui ogni giorno, quando mi chiamo mi faccio sempre trovare pronto, do sempre il massimo e diciamo che è stato ripagato il lavoro che ho fatto. Non so se lo sai ma sei il primo giocatore nato dal 2004 a giocare in una competizione UEFA con una squadra italiana, un bel traguardo, è giusto anche che tu faccia una dedica oggi? La dedica va alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino nei momenti sia belli che brutti, i miei amici che erano allo stadio che vengono sempre e anche la mia ragazza che mi sta sempre vicina.